Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! La classifica dei segni zodiacali più fortunati per la settimana che va da lunedì 24 a domenica 30 giugno vede come protagonisti segni d'acqua, scorpione, cancro e pesci. Gli altri segni non hanno la dea bendata dalla loro parte, ma non devono arrendersi. Al dodicesimo posto troviamo Lariete, che non conosce la calma e tende a lamentarsi quando le cose non vanno come desidera. All'undicesima posizione c'è la bilancia, che in questo periodo ha Venere e Mercurio contro e si sente infastidita da tutto. Al decimo posto c'è il leone, che stranamente è in sintonia con la malinconia. La classifica prosegue con il capricorno al nono posto, che non solo ha la dea bendata lontana, ma anche l'amore. All'ottavo posto c'è l'acquario, che in questo periodo è inclino alla polemica a causa di Marte e degli altri pianeti. Il sagittario merita la settima posizione a causa di Giove opposto, mentre i gemelli conquistano il sesto posto. La quinta posizione è per lo scorpione, sempre bilanciato dall'amore. La vergine, che si sente irresistibile in questo periodo, conquista il quarto posto, mentre il toro, pieno di sé, si piazza al terzo posto. Il cancro, desideroso di prendersi cura degli altri, merita la seconda posizione. Il primo posto tra i segni più fortunati va i pesci, che riceveranno ottime notizie anche senza sfuga.